Aveva la schiena irrequieta e la nuca di porcellana, aveva i capelli castani e i ribelli e una lingua affilata e allegra quella quale vagliava vita, morte e miracoli di chiunque le capitasse sottotiro. Alla gente piaceva parlare con lei perché la sua voce pareva di fuoco e i suoi occhi sapevano tradurre in parole i gesti più insignificanti e le storie meno ovvie. Non che inventasse malignità sul prossimo o conoscesse più nei dettagli un pettegolezzo, più che altro sapeva scoprire il punto debole di ogni intrigo, l'esatta dimenticanza di Dio che coronava la bruttezza di qualcuno, la lieve imprecisione verbale che rendeva sgradevole un'anima candida. La zia Ciaro amava stare al mondo, osservarlo con i suoi occhi inclementi, arrotarlo con la sua voce frettolosa. Non perdeva il suo tempo. Mentre parlava, cuciva i visti dei figli, ricamava iniziali sui fazzoletti del marito, faceva gilet per chi avesse freddo d'inverno, giocava a pallamuro con sua sorella, cuoceva la più squisita torta di grano turco, impastava le frittelle sulle proprie ginocchia e aiutava i figli a fare i compiti che non capivano. Mai sarebbe vergognato della sua passione per le parole se non fosse che un pomeriggio di giugno accettò di partecipare a degli esercizi spirituali in cui la predica accadde sul comandamento non dire falsa testimonianza. Per un po' il padre parlò dei falsi testimoni celebri, ma vedendo che così non faceva presa sul suo sonno lento uditorio, passò a demonizzare la piccola serie di peccati meniali che si commettono parlando del prossimo e che sommati diventano giganteschi peccati mortali. La zia Ciaro uscì dalla chiesa con un rimorso che le attanagliava la bocca dello stomaco. Si era forse caricata di peccati immortali a furia di sparlare del naso di una signora e dei piedi di un'altra, della giaca di un signore e della coppa di un altro, del denaro e di un arricchito e degli occhi inquieti di una donna sposata. Era possibile che il suo cuore fosse imputredito dai peccati per la sua conoscenza di tutto quel che accadeva tra le sottane e i pantaloni della città, di tutte le idiozie che impedivano la felicità altrui e di tanta felicità altrui che non era altro che idiozia? Il terrore si faceva strada dentro di lei. Prima di tornare a casa, passò a confessarsi dal parroco spagnolo arrivato da poco, un uomo piccolo e mite che girava per la parrocchia di San Javieri in cerca di fedeli che gli accordassero la propria fiducia. A Puebla la gente può arrivare ad amare più intensamente che altrove, ma ci vuole del tempo. Non ci si fida del primo sconosciuto come se lo si conoscesse da una vita intera. Tuttavia, in questo la zia non era come i suoi concittadini. Fu una delle prime clienti del prete spagnolo. Il vecchio curato che le aveva dato la prima comunione era morto, lasciandola senza nessuno con confidare i suoi pensieri più segreti, quelli che lei e la sua coscienza distillavano in privato, quelli che avevano a che fare con i suoi piccoli smarrimenti, con i dubbi delle sue privatissime sottane, con i ribollimenti del suo corpo e i cristalli oscuri del suo cuore. Ave Maria Purissima, disse il paroco spagnolo nella sua lingua secca, più simile a quella di un cantante gitano che a quella di un prete educato a Madrid. Concepita senza peccato, rispose la zia sorridendo nell'oscurità del confessionale, come sempre quando faceva tale affermazione. Sta ridendo, indovinò lo spagnolo come se fosse uno stregore. No, padre, disse la zia Ciaro, temendo i fulmine dell'inquisizione. Io sì, replicò l'ometto, e lei può farlo con il mio permesso. Non conosco un saluto più ridicolo, ma mi dica, come sta? Cosa le succede oggi, così tardi? Mi domando, padre, disse la zia Ciaro, se è peccato parlare degli altri. Sa, raccontare quello che succede, sapere quello che provano, non essere d'accordo con quello che dicono, notare che lo strabico è strabico e la zoppa è zoppa, che il tale è spettinato e l'altra parla solo dei milioni del marito, sapere come il marito si è fatto i milioni e con chi se li spende. È peccato, padre, chiese la zia. No, figlia mia, rispose il paroco spagnolo, questa è ansia di vita. Che cosa ha da fare qui la gente? Lavorare e pregare? Avanza molto tempo. Vedere non è peccato e commentare neppure. Vai in pace, dormi tranquilla. Grazie, padre, disse la zia Ciaro, e corse a raccontare tutto a sua sorella. Ormai libera dal peccato, seguitò ad assaporarsi il romanzo che la città le regalava. Aveva la testa piena dell'andiriviene del prossimo ed era una sicura garanzia di divertimento. Per questo la invitavano a tutte le vendite di beneficenza e se la disputavano in più di dieci per averla al proprio tavolo il giorno in cui si giocava a canasta. Gli altri la invitavano a casa propria, andavano a farle visita. Non deludeva mai, mai si ebbe primizia che non uscisse dalla sua bocca. Così trascorreva la vita, fino a una certa sera al bazar di Guadalupe. La zia Ciaro aveva passato il pomeriggio lottando con le perline di una cintura e, non avendo novità da raccontare, stava a sentire. «Ciaro, tu conosci il padre spagnolo della chiesa di San Javier?» e domandò una signora mentre finiva l'orlo di un tovagliolo. «Perché?» rispose la zia Ciaro, abituata a non sbilanciarsi troppo facilmente. «Perché dicono che non sia un prete, ma un repubblicano bugiardo arrivato con i rifugiati accolti da Cardenas, che non avendo trovato lavoro come poeta, si è inventato di essere un prete e racconta che i suoi documenti sono andati bruciati con la chiesa del suo villaggio all'arrivo dei comunisti». «Com'è cattiva certa gente!» disse la zia Ciaro e con tutta l'autorità del suo prestigio aggiunse. «Il padre spagnolo è un uomo devoto, gran cattolico, incapace di mentire. Io ho visto la lettera con cui il Vaticano l'ha inviato al paroco di San Javier. Se poi, quando è arrivato, il povero vecchietto stava per morire, non è colpa sua, non ha avuto il tempo di presentarlo. «Ma che l'abbiano mandato, è cosa certa! Non avrei certo scelto come mio confessore un comediante!» «Il tuo confessore?» chiese una voce dal coro delle curiose. «Ho questo privilegio!» ribatté la zia Ciaro e tornò al fiore di perline che stava ricamando, considerando ormai l'esaurito argomento. La mattina seguente entrò nel confessionale del padre spagnolo. «Padre, ho mentito!» disse la zia. «Bugie gravi?» domandò il padre. «Bugie necessarie!» rispose la zia. «Necessarie per il bene di chi?» domandò ancora il padre. «Di una reputazione, padre!» disse la zia. «La persona che ha aiutato è innocente?» «Non lo so, padre!» confessò la zia. «Il merito è doppio, allora!» disse lo spagnolo. «Che Dio ti conservi lucidità e bontà d'animo!» «Vai in pace!» «Grazie, padre!» disse la zia. «Grazie a te!» le rispose lo strano sacerdote facendola tremare. Non era bella la zia Cristina Martina, ma aveva qualcosa nelle gambe magre e nella voce precipitosa che la rendeva interessante. Disgraziatamente gli uomini di Puebla non andavano in cerca di donne interessanti da sposare e la zia Cristina compì vent'anni senza che nessuno le avesse mai proposto neppure un fidanzamento di buon livello. Quando compì vent'uno le sue quattro solelle si erano ormai sposate bene o male ed era umiliante per lei passare la giornata a ricamare paramenti sacri. Tra non molti i suoi nipoti avrebbero cominciato a chiamare la zitella e lei non era sicura di poter reggere il colpo. Fu dopo quel compleanno terminato con le lacrime di sua madre al momento di spegnere le candeline sulla torta che apparva all'orizzonte il signor Archeros. Una mattina Cristina tornò dal centro dove era andata a comprare dei bottoni di madre perla e un metro di pizzo raccontando di avere conosciuto uno spagnolo distinto nella gioielleria alla princesa. I brillanti in vitrina le avevano spinta a entrare per chiedere quanto costasse un anello di fidanzamento il sogno della sua vita. Il prezzo le sembrò onesto e si rammaricò di non essere un uomo per poterlo comprare all'istante e mettersele un giorno al dito. «Loro possono avere l'anello prima della fidanzata possono addirittura scegliersi una fidanzata che faccia pandanco all'anello noi invece dobbiamo soltanto aspettare ci sono quelle che aspettano tutta la vita e quelle che si rassegnano per sempre a un anello che le disgusta non credi?» chiese sua madre durante il pranzo «Non ti mettere contro gli uomini Cristina» disse sua madre «Che avrà cura di te quando io morirò?» «Io mamma? Non ti preoccupare sarò io ad avere cura di me» Nel pomeriggio un incaricato della gioielleria si presentò a casa con l'anello che la zia Cristina si era provata allungando la mano davanti a sé per guardarlo da tutti i lati mentre diceva un mucchio di cose simili a quelle che aveva ripetuto a sua madre in sala da pranzo c'era anche una busta sigillata e indirizzata a Cristina Entrambe le cose le mandava il signor Archeros con la sua devozione i suoi secchi e il dispiacere di non averle potuto consegnare personalmente ma la sua nave salpava da vera cruce il giorno seguente e lui avrebbe dovuto viaggiare parte di quel giorno e tutta la notte per arrivare in tempo il messaggio era una proposta di matrimonio le sue idee sulla vita sugli uomini e sulle donne la sua voce deliziosa e la scioltezza con cui cammina mi hanno affascinato non tornerò in Messico per diversi anni ma le propongo di raggiungermi in Spagna presto il mio caro amico Emilio Suárez si presenterà ai suoi genitori riponghi lui la mia fiducia e lei le mie speranze Emilio Suárez era l'uomo dei sogni adolescenti di Cristina aveva 12 anni più di lei ed era ancora a scapolo quando lei ne aveva 21 era ricco come il bosco sotto la pioggia e selvatico come le montagne in gennaio le avevano dato la caccia a tutte le donne della città e le più fortunate avevano ottenuto il semplice trofeo di un sorbetto sotto i portici ogni buon conto si presentò a casa di Cristina per proporre a nome del suo amico un matrimonio per procura nel quale con grande piacere lo avrebbe rappresentato lui la mamma della zia Cristina si rifiutava di credere che sua figlia avesse visto lo spagnolo una volta sola e non appena Suárez parì con la risposta che ci avrebbero pensato l'accusò di mille misfatti ma sua figlia sembrava tanto sorpresa che alla fine si scusò con lei e rivolgendosi al cielo dove era suo marito chiese il permesso di commettere lo sproposito di sposarla a un estraneo quando si uscì dalle strettoie della sorpresa la zia Cristina guardò il suonello e cominciò a piangere per le sue sorelle per sua madre per le sue amiche per il suo quartiere per la cattedrale per la piazza principale per i vulcani per il cielo per il tacchino arrosto per le tartine di farina gialla per l'ino nazionale per la santa che portava a città del Messico per ciò lula per ciò tezlan per le ossa consunte del suo papà per le fricassee per i cioccolatini che raschiavano la gola per la musica per l'odore delle tortillas per il fiume San Francisco per la fattoria della sua amica Elena e i pascoli di suo zio Abelardo per la luna di ottobre e quella di marzo per il sole di febbraio per la sua arrogante solitudine per Emilio Suarez che l'aveva sotto gli occhi da una vita e non aveva mai fatto caso alla sua voce o a come accidenti camminasse il giorno seguente portò in giro la notizia e l'anello luccicante sei mesi più tardi si sposò con il signor Archeros davanti a un prete a un notaio e agli occhi di Emilio Suarez ci furono messa banchetto danze e commiati tutto con grande entusiasmo come se lo sposo fosse stato al di qua dell'oceano raccontano che da molto tempo non si era vista una sposa più raggiante due giorni dopo Cristina partì da Veracruz per il porto dove il signor Archeros con tutta la sua galanteria l'avrebbe accolta per condurla a vivere tra le sue zie di Valladolì da lì spedì la sua prima lettera per dire quanto fosse spaesata e felice non si dilungava ad escrivere il paesaggio affollato di casette e campicelli ma inviava a sua madre una ricetta di una carne con vino rosso che era il piatto tipico della regione e alle sorelle due poesie di un certo Garfia Lorca che l'avevano scombussolata tutta suo marito si era rivelato un uomo sollecito e lavoratore che passava la vita a ridere del modo in cui sua moglie parlava lo spagnolo delle sue storie di spettri di come diventava rosso ogni volta che sentiva un cazzo e del suo terrore perché la tutti bestemmiavano il Dio per qualunque motivo e giuravano sull'ostia consacrata senza alcun riguardo per un anno le lettere continuarono ad andare e venire finché arrivò quella in cui la zia Cristina comunicava ai suoi la morte improvvisa del signor Archeros era una lettera breve che sembrava priva di sentimenti deve essere proprio sconvolta poverina disse sua sorella la seconda che conosceva le sue belleità sentimentali e le sue violente passioni erano tutte in pena per il suo dolore nell'attesa che appena si fosse ripresa avrebbe scritto loro qualcosa di più riguardo al futuro stavano proprio parlando di questo una domenica dopo pranzo quando la videro apparire sulla soglia portava regali per tutti e i nipoti non la lasciarono andare finché non finì di distribuirli aveva le gambe più grosse e calzava certe scarpe dai tacchi altissimi nere come le calze la sottana la camicetta la giacca il cappello e la veletta che non aveva avuto il tempo di sollevare terminata la distribuzione se la strappò insieme al cappello e sorrise beh eccomi qui disse da quel momento fu la vedova archeros evitata la sventura di rimanere zitella scacciò le altre con il suo piano scordato e la sua voce ardente non si faceva pregare per mettersi al pianoforte e accompagnare qualsiasi canzone sapeva suonare qualunque waltzer polca fandango aria o passo doble scrisse le parole per alcuni preludi di Chopin che poi cantava evocando romanzi misteriosi alla fine del concerto si lasciava applaudire si alzava dello sgabello per fare una profonda riverenza stendeva le braccia mostrava l'anello e infine indicando se stessa con le mani invecchiate belle dichiarava eccomi qua sepolta a Puebla dicono le male lingue che il signor Archeros non sia mai esistito che Emilio Suarez avesse detto l'unica bugia della sua vita convinto con chissà quali arti della zia Cristina e che il denaro che lei chiamava la sua eredità provenisse dal contrabbando di qualche merce nascosta nelle valigie del suo corredo anunziale chissà quello che è certo è che Emilio Suarez e Cristina Martinez furono amici fino all'ultimo dei loro giorni cosa che nessuno perdonò mai perché l'amicizia tra uomini e donne è un bene imperdonabile ci fu una nostra zia fedele come nessun'altra donna almeno così dicono tutti quelli che la conobbero mai si vide a Puebla donna più innamorata o più sollecita della sempre raggiante zia Valeria faceva la spesa al mercato della vittoria raccontano le vecchie del mercato che perfino dal modo con cui sceglieva le verdure traspariva la sua pace le toccava piano osservava la lucentezza della goccia e le lasciava cadere sulla bilancia poi mentre niene pesavano buttava indietro la testa e sospirava come che appena assolto un compito affascinante alcune sue amiche la credevano un po' matta non capivano il suo modo di affrontare la vita sempre soddisfatta sempre a parlare bene di suo marito diceva di adorarlo persino nella massima confidenza quando conversavano come con se stesse nell'angolo di un giardino o nell'atrio della chiesa suo marito era un uomo del tutto ordinario con i suoi imprescindibili attacchi di malumore con il suo necessario disprezzo per il pranzo con la sua ingrata certezza che la migliore ora di amare fosse quella che faceva comodo a lui con le sue euforie mattutine le sue assenze notturne con le sue perfette teorie sull'educazione dei figli e la prudentissima distanza che manteneva da loro un marito come tutti gli altri per questo sembrava assurda la condizione di perpetua innamorata che sprizzava dagli occhi e dal sorriso della zia Valeria ma come fai? le chiese un giorno sua cugina Gertrudis famosa perché ogni settimana cambiava attività mettendo in tutte la stessa passione sfrenata che i grandi uomini dedicano a un unico compito Gertrudis era capace di fare cinque maglioni in tre giorni montare a cavallo per ore e ore preparava torte per tutte le feste di beneficenza prendeva lezioni di pittura ballare il flamenco cantare canzoni popolari invitare 70 persone a pranzo la domenica a innamorarsi con assoluta naturalezza di tre signori diversi lunedì come faccio cosa? domandò la serafica zia Valeria non annoiarti mai rispose la cugina Gertrudis mentre infilava l'ago e iniziava a ricamare una delle 300 tovaglie a punto croce della scerna eredità alle figlie a volte penso che tu abbia un amante segreto pieno di audacia la zia Valeria si mise a ridere dicono avesse una risata argentina e aperta da destare invidia ne ho uno diverso ogni notte rispose quando smise di ridere come se si sapesse dove andare a prenderli disse la cugina Gertrudis seguendo ipnotizzata il movimento del lago io lo so espose la zia Valeria incrociando le morbide mani in grembo in questa città di quattro gatti dove si conoscono tutti disse la cugina Gertrudis facendo un nodo nella mia testa affermò l'altra gettandola all'indietro in quel gesto così suo che solo in quell'istante la cugina vi scoprì qualcosa di più che una strana abitudine basta chiudere gli occhi disse senza aprirli e trasformi il tuo marito in chi preferisci Pedro Armendariz o Humphrey Bogart Manoletto il governatore il marito della tua migliore amica o il migliore amico di tuo marito il venditore di zucchine o il patrono migliorario di un ospizio per vecchi in chi desideri per desiderarlo ogni volta in modo diverso e non ti annoi mai l'unico rischio è che alla fine si notino le nubi sul viso ma questo è facile evitarlo perché le scacci con la mano e torni a baciare tuo marito che di sicuro ti ama come se fossi Ninon Sevilla o Greta Garbo Maria Vittoria o l'adolescente che sta sbocciando nella casa accanto baci baci tuo marito poi vai al mercato o ad accompagnare i bambini a scuola baci tuo marito ti rannicchi contro il suo corpo nelle notti di tempesta e continui a sognare raccontano che così abbia sempre fatto la zia Valeria e che per questo visse felice per molti anni quello che è certo è che morì mentre dormiva con la testa gettata all'indietro e ha un autografo di Augustin Lara sotto il cuscino